Da Roma ancora una fumata nera e per 102 famiglie di dipendenti della Mantovani rimane una pesante incertezza sul proprio futuro. La cassa integrazione è scaduta il 25 ottobre ma le oltre 4 ore d'incontro al Ministero del Lavoro tra proprietà e sindacati si sono risolte in un nulla di fatto e un rinvio all'8 novembre. La società del Mose, in grado fino a pochi anni fa di fatturare centinaia di milioni di euro all'anno, vive una crisi profonda che potrebbe sfociare anche in un'ulteriore riduzione del personale, stimata in oltre 100 dipendenti. Intanto per i 102 lavoratori padovani e veneziani che tendono di sapere se la cassa integrazione sarà prorogata, presumibilmente di altre nove mesi, bisognerà attendere almeno fino a metà della settimana prossima.